E se a Bo passa a Awe, delante di Royal Plaza, bestiore, cantore, parlamento e te sta arrivando il rotondo di Casa e Cultura, chissà a Bo tambi chieda per lo meno 30 minuti pegati in rei. Awe è la carretera principale, anche tutto un caos total, cammino da Cubotota, non meno che una meia ora per passare e più da qui. Hoppita è una cosa puntata nel mese che ora passa. Sempre che l'embarco è una grande d'Igno Suave, la situazione è vera così. E awe? Entre Carnival Breeze, Jewel of the Seas e Serenade of the Seas, quasi, l'oporto ha avuto al reddore di 8 mil visitanti che andando arriva. Sin embargo, la situazione è vera uno caotico, anche di più. Hoppita è l'altra bo, per esempio l'ambulanza è un problema e è vera così. Sicur, una situazione è desagradabile che non ha avuto l'uso di ruta per arrivare al destino. Sin embargo, awe pensa che Kiko porta un'alternativa specialmente, mirando la pronostica per il 2016 e la cifra di turismo crucero lo segui cresce. In una situazione, diarciare a Mombasa diario, sin duda di alcun, da uno frustrante. diarciare a Mombasa. Grazie. Grazie.